Questo è quello che prima diceva vedere il professor Busicchi, ovvero quello del naviglio centrale con un'alzare che è passata a fianco, quindi all'incremento la possibilità di protezione pedonale del naviglio, e due corsie affiancate alla parte edificata dalla parte interna, che sono anche le attività commerciali. Un problema potrà essere dato dalla sosta in superficie, nella sosta incarreggiata, perché effettivamente questo è un elemento di riduzione della capacità della strada per portare ad una certa congestione, però è possibile trovare delle soluzioni eliminando la sosta e riorganizzando delle vie laterali con dei sistemi di sosta a tempo. Peraltro, dato che non conosciamo ancora le circolazioni effettive che potrebbero anzi darci una quantità di traffico minore, quindi eliminare questo problema per ora e per la nostra parte, insomma, è sempre stato rappresentato da sosta in superficie, come adesso esiste. Ecco, queste sono le problemi che possono consentire, diciamo, un certo optimismo del pensare che i problemi dal punto di vista trasportistico, viabilistico, di traffico e di accessibilità possono essere facili bene, lasciandoci però una città con una qualità veramente di più. Grazie.